E' martedì 4 aprile, buongiorno e bentrovati con la nostra prima edizione del telegiornale questa mattina in regia Michele Pece. In apertura parliamo di legge elettorale. Alla prova dei fatti il rosatellum è risultato inadeguato per dare un governo stabile all'Italia, diversa la situazione nel Molise con la nuova legge elettorale regionale che assegna un premio di maggioranza spropositato al vincitore senza tener conto della percentuale dei voti acquisiti. La nuova normativa prevede anche la possibilità della doppia preferenza di genere, ma solo se i candidati sono inseriti nella stessa lista proporzionale. Ci dice tutto Giovanni Minicozzi. Nelle prossime ore il capo dello Stato Sergio Mattarella inizia le consultazioni per tentare di formare il nuovo governo. Al momento tra veti e contro veti il tentativo appare arduo, ma è innegabile che i vincitori delle elezioni politiche del 4 marzo sono stati il Movimento 5 Stelle e la Lega. La logica vorrebbe che i due vincitori si mettessero d'accordo per condividere pochi punti fondamentali, tra i quali la modifica della legge Fornero sull'età pensionabile, l'abolizione degli odiosi vitalizi e la riduzione delle indennità per i parlamentari, un progetto credibile per il rilancio dell'economia nel mezzogiorno d'Italia e soprattutto una nuova legge elettorale per evitare che in caso di elezioni anticipate si ripeta la stessa situazione di stallo. Ma in politica la logica non sempre vale. Il Rosatellum, approvato dai maggiori partiti solo per tentare di escludere il previsto successo elettorale dei pentastellati, alla prova dei fatti ha mostrato tutti i suoi limiti e ha reso di fatto ingovernabile l'Italia. E' auspicabile dunque una modifica della legge per dare più governabilità all'Italia e per consentire agli italiani di scegliere i propri parlamentari con le preferenze. Opposta invece la situazione del Molise, conseguente alla legge elettorale regionale approvata al novantesimo minuto dall'Aula di Palazzo Santoro. Da noi il candidato presidente, che prende un voto in più dei suoi concorrenti, elegge se stesso più 12 consiglieri di maggioranza su 20, ovvero 13 su 21, compreso il presidente. La nuova legge dunque garantisce un poteroso premio di maggioranza al di là della percentuale di voti riportata dal vincitore. Le diverse minoranze invece dovranno dividersi solo sette seggi in quanto l'ottavo viene assegnato al candidato presidente che si piazza secondo alle spalle del vincitore. Il premio appare davvero eccessivo e si potrebbe migliorare con un ballottaggio tra il primo e il secondo classificato. Tra le novità positive della nuova legge segnaliamo invece il collegio unico regionale necessario in una piccola regione e la doppia preferenza di genere, ovvero ciascun elettore potrà esprimere due preferenze sulle liste proporzionali. Può scegliere dunque tra i diversi candidati di votare un uomo e una donna, ma della stessa lista proporzionale. Se dovesse scegliere un uomo e una donna, collocati in liste diverse, la scheda verrebbe annullata. L'elettore infine può anche scegliere di votare solo un uomo o solo una donna e la scheda è ugualmente valida. Uno dei temi che i candidati alla presidenza della regione sono chiamati ad affrontare con parole chiare riguarda i vertici dell'ASREM. Quelli attuali rappresentano un lascito del governo Frattura. Nomine di carattere fiduciario che i prossimi inquilini della regione potrebbero decidere di sostituire in tutto o in parte. Ascoltiamo il servizio. La questione sanità è stata il tema centrale di tutta la stagione regionale a guida Frattura, un tema incandescente che ha toccato il massimo della contrapposizione il 18 maggio del 2016, quando scesero in piazza migliaia di persone per contrastare la riforma voluta dal presidente della regione e commissario ad acta. Una parte seppur tecnica ed esecutiva di tale riforma è rappresentata dalle strutture apicali dell'azienda sanitaria regionale. Non è un mistero che Frattura per i vertici dell'ASREM abbia scelto tutte figure provenienti da fuori regione, a partire dal direttore generale Gennaro Sosto calabrese, come calabrese è il direttore amministrativo, l'ex capitano dei NAS Antonio Forciniti. Dalla vicina Campania arriva invece il direttore sanitario Antonio Lucchetti. Pugliese era marinella di Innocenzo, il braccio destro di Frattura, a cui si deve buona parte del piano operativo 2015-2018. La di Innocenzo, però a suo tempo direttore generale della Salute, ha lasciato esattamente un anno fa il Molise per trasferirsi alla ASL di Rieti. Stiamo parlando in tutti i casi di nomine la cui base fiduciaria pone una questione di non poco conto ai candidati alla presidenza della regione Molise. Nel giro di poche settimane dal proprio insediamento il nuovo presidente della regione sarà chiamato a decidere se confermare in tutto oppure in parte le scelte fatte dal presidente uscente Frattura, soprattutto in considerazione che gli attuali piani operativi scadranno a fine anno. La logica dello spoil system, ovvero della sostituzione integrale dei gruppi dirigenti, molto in voga all'estero, in Molise fatica ad affermarsi, tant'è vero che chiunque si accinga a governare dai 5 stelle a Casa Pound, dal centro-sinistra al centro-destra, dovrà fare i conti non solo con le nomine effettuate da Frattura, ma anche con una burocrazia regionale talvolta più potente ed influente della politica, che sì avrà tanti difetti, ma che risponde pur sempre ad un mandato popolare. La burocrazia spesso di fatto non risponde a nessuno. Su questi temi la gente politica segna il passo, eppure sarà il caso che a meno di 20 giorni dalle elezioni regionali i candidati alla Presidenza facciano conoscere ai molisani il proprio pensiero. Riprende domani a Termoli la storica attività di via Corsica Unigross, dove c'è un'ampia scelta di prodotti che vanno dall'intimo all'assortimento per la casa. Il brand abruzzese ha aperto di recente anche uno store in via Inghilterra. Bene, ed è tutto per l'informazione. Adesso passiamo alla rassegna stampa. Andiamo subito a dare uno sguardo alla home page del giornale del Molise. Vertici Asrem, il nuovo presidente, confermerà le scelte di frattura. Questo il titolo di apertura che fa questa mattina il giornale del Molise. Vediamo le altre notizie. In evidenza il Ministero premia le specialità di pesce da antiche ricette. Per il Molise ci sono 10 riconoscimenti. Da Castel Petroso, grande festa per i cento anni di Elia Cifelli. Poi la politica. Il PD ci riprova, presentata la lista per le regionali da Termoli. Si rinnova la Madonna a lungo, la Pasquetta dei Termolesi. Poi la cronaca, Capracotta, Picnic di Pasquetta, Conascisce e Mariuana. Denunciati quattro giovani. E dal giornale del Molise andiamo a primo piano. Tunnel, il Comune accelera. Avviato l'iter in consiglio. Si parla di questa opera molto controversa che la città di Termoli si accinge a realizzare. L'amministrazione guidata da Sbrocca tira dritto domani in seduta congiunta le commissioni per esaminare il progetto. Poi il vaglio dell'Aula. Opposizione e Comitati scrive primo piano sul piede di guerra. I Cinque Stelle invitano la popolazione a partecipare ai lavori. Vediamo le notizie in taglio alto. C'è la politica. Il PD racconteremo cosa abbiamo fatto in cinque anni presentata ieri. La lista. Poi un'intervista al presidente uscente del Consiglio regionale Vincenzo Cotugno che dice 50 milioni per giovani imprese e start-up. Da Trivento la cronaca invece. A fuoco tre auto nella notte si segue la pista del Dolo. Torniamo a centropagina dove si parla di spopolamento. 31 paesi sotto la lente. Spopolamento. Il Molise scompare. Stilata la mappa dei centri pentri a rischio di desertificazione. Una luce blu per accendere i diritti. Anche il Molise ha aderito alla giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. La sede del comando provinciale dei vigili del fuoco di Sernia e Palazzo San Giorgio si sono tinti di blu. Restiamo sulla prima pagina di primo piano. Martedì in Albis. Termoli e Venafro non deludono tradizione rispettata. Poi si ritorna a parlare di politica. Riflettori su Molise e Friuli. Salvini punta sull'esito delle regionali per ottenere l'incarico da Mattarella. Adesso uno sguardo alle notizie sportive. Serie D. Campobasso in Abruzzo per riprendere la marcia. Foglia-Manzillo conferma Balistreri e Varsi davanti. Antagonista l'Aquila. Calcio regionale. Guglionesi atteso dall'Alifae per il Castelmauro. La sfida al Roseto. Pallacanestro. Silver serata al Palasabetta. Per l'Italian gas arriva il Teramo. E dopo primo piano trasferiamoci sul quotidiano del Molise. Parte oggi il perbene tour di Toma. Il PD lancia la volata a Veneziale. Quindi l'apertura dedicata alla politica presentata ieri la lista DEM che sarà a congresso dal 21 aprile. Proseguono gli incontri degli aspiranti presidenti. Vediamo le notizie in taglio alto sul quotidiano. Si parla ancora di politica e di amministrazione. L'endorsement del governatore. Frattura dice l'umanità di Carlo. La vera. Discontinuità. Poi parla Antonio Di Pietro e spiega le ragioni del gran rifiuto alla candidatura. Il leader della Will dice, tecla Boccardo, quindi incentivi per l'occupazione. Boccardo dice non se ne parla. Lo facciamo. Noi torniamo a centro pagina sul quotidiano. Dal comune di Sernia, dopo la sentenza del Tar, torna in aula. Il bilancio per la sanità al Neuromed ha segnato il premio internazionale di qualità. Restiamo sulla prima del quotidiano con la cronaca. Trivento. Atto intimidatorio. Incendiate tre auto nella notte. Da capracotta, droga nascosta, frarrustici e pastiere. Campobasso, tangenziale est. Oggi partono i lavori da termo. L'ecocentro attesa finita. L'impianto riapre. Le notizie sportive anche sul quotidiano del Molise. Serie D. Campobasso a caccia del riscatto sul campo dell'Aquila. Eccellenza in programma. Il recupero tra il Real Guglionesi e l'Alifae. E in chiusura della rassegna stampa dedicata alle pagine locali andiamo sulla home page di Futuro Molise. L'apertura è dedicata alla cronaca da Capracotta. Pasquetta da sballo. I carabinieri mandano all'aria il festino a base di stupefacenti segnalati. Quattro ragazzi. Si parla poi di politica. Regionale intervista alla giovane candidata di Forza Italia Francesca Sansò. Il Molise ha bisogno di riacquistare credibilità. Incentivi all'occupazione. Boccardo della Will dice ma in Molise qualcuno li conosce. Vedo le associazioni datoriali silenziose o distratte da Isernia. Sedicenti scout chiedono denaro in nome del gruppo a Gesci ma è una truffa. E adesso andiamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali che questa mattina quasi tutti hanno in apertura le consultazioni per il nuovo governo che oggi prendono il via. iniziamo dal Corriere della Sera. Scontro sulla mossa di Di Maio. Il leader del Movimento 5 Stelle dice noi con Lega OPD ma senza Berlusconi e Renzi. Salvini replica no ai veti. I democratici commentano irricevibile il contratto dei 5 Stelle. Oggi al via. Le consultazioni al Colle. restiamo sul Corriere della Sera con questa notizia che arriva dalla California. Donna spara poi si uccide. Ore di terrore a YouTube evacuati in 1700 diversi feriti. L'obiettivo della donna era il fidanzato. Poi si riprende sul Corriere della Sera la polemica con la Francia per il Blitz a Bardonecchia. Blitz sui migranti. Parigi dispiaciuta. Dice chiariremo tutto. E dal Corriere passiamo alla prima pagina di Repubblica. Governo la mossa di Di Maio. Sì a Salvini ma senza Berlusconi. L'ira del Cavaliere che dice resto in campo. Il PD porte chiuse a 5 Stelle. E lega oggi al via le consultazioni. Anche su Repubblica si riprende la notizia proveniente dagli Stati Uniti. Spari nella sede di YouTube. Evacuati gli uffici. Molti feriti. La polizia dice morta l'assalitrice. E da Repubblica andiamo al quotidiano di Torino la stampa che ha un'apertura diversa da tutti gli altri giornali. Mediaset Sky. Lo stop di Team. C'è troppa concentrazione. Questo il titolo di apertura. Intervista con l'amministratore delegato Genish. Le autorità indaghino sul patto tra le TV. Il realistico che Elliot prenda il controllo della società. La rete. Nessun governo sarà contro lo scorporo. Restiamo sulla stampa con una fotonotizia che arriva dalla Finlandia. In Finlandia l'isola vietata agli uomini. Apre il resort per sole donne. Libere dalla tensione sessuale. Un colloquio necessario per l'ammissione. E dopo la stampa andiamo a vedere l'apertura che fa il Fatto Quotidiano. Di Maio cerca di stanare Salvini e il PD. Chi ci sta? Dice Di Maio. Ma niente. B. Oggi le consultazioni. Il capo leghista chiude ai democratici che stanno però fermi. Restiamo sul Fatto Quotidiano. Stangata dell'Unione Europea sui terremotati. Ridateci. 75 milioni di tasse rivolte all'Aquila. 350 imprenditori e le cartelle esattoriali per vecchie. Sanzioni. Esenzioni. E dal Fatto Quotidiano andiamo al Libero. Ideona di Franceschini. Si famolo strano scrive il quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Si parla di un governo ammocchiata. Nel PD cresce il fronte di quelli che si offrono ai 5 Stelle o sperano che Mattarella li obblighi alla grande coalizione. Il Movimento 5 Stelle riapre i due forni esecutivo con i Dem o con la Lega ma senza Silvio. Restiamo su Libero dove c'è un pezzo a firma di Renato Farina premesso dall'avviso ai querelanti. Si tratta di Satira. Di Maio risponde alle critiche. Ciascuno abbiamo il suo modo da esprimerci. Chiaramente Renato Farina fa riferimento ai presunti strafalcioni di Di Maio. E dopo Libero andiamo sul messaggero. Lega Forza Italia. Strappo impossibile. L'intervista al Presidente del Senato Alberti Castellati. Dice lo stallo sarebbe una sconfitta per tutti. Al via le consultazioni al collo. Le diktat di Di Maio. Si al Carroccio o PD. No a Berlusconi. Salvini però dice no ai veti. Restiamo sul messaggero dove si parla di pensioni. L'uscita dieci anni prima. Ecco le categorie. Il 18 aprile scatta la chiamata per l'ape volontaria e per i senza lavoro entra in vigore anche la rita. Poi il messaggero parla del concerto di Bob Dylan a Roma. Eterno Bob Dylan dall'incontro mancato con Fellini all'auditorium. E dal quotidiano romano. Andiamo sul sole 24 ore per dare uno sguardo alle notizie economiche. Eurostat. Nei conti pubblici i costi dei salvataggi bancari. Oggi dall'Istat il quadro definitivo sul disavanzo, debito e crescita 2017. Questo è il titolo di apertura del quotidiano di Confindustria che poi parla di Spotify e scrive vale 29,5 miliardi di dollari. Proseguiamo con l'avvenire. Risposte al Paese. Questo è il titolo di apertura che fa il quotidiano della conferenza episcopale italiana. L'auspicio di Mattarella. Oggi le consultazioni sui vitalizi. Di Maio insiste. Via all'unanimità. Primo giro dei partiti al colle, scrive l'avvenire. Con veti reciproci e tempi lunghi. Il Movimento 5 Stelle propone un contratto di governo e dice no a Forza Italia. Il PD però si chiama fuori dalla mischia. Restiamo sull'avvenire. Aiuto al suicidio. Resti un reato. Governo in campo. L'avvocatura alla consulta sulla vicenda di DJ Fabo. E dal quotidiano cattolico passiamo a quello comunista. Il manifesto. Macron deraglia. Si parla del grande sciopero dei ferrovieri in Francia. Martedì nero per l'Eliseo. Lo sciopero dei treni blocca la Francia. Contro la riforma delle ferrovie nazionali. Saranno tre mesi di protesta dura. E tra governo e sindacati scatta la guerra dell'opinione pubblica. In piazza anche lavoratori dell'Air France. Netturbini e studenti. Restiamo sul manifesto in taglio alto con la politica di Maio, con il PD o con la Lega Senza Forza Italia. Da oggi le consultazioni al Quirinale. E dopo il manifesto passiamo al mattino di Napoli. Governo. Il piano Movimento 5 Stelle. Lega. Questa è una delle due aperture di Maio. Si a Carroccio e Piddino. A Berlusconi. Salvini. Dialogo. Si ma senza veti. L'altra apertura invece è dedicata ad una delle tante tragedie quotidiane. Noi papà e le notti da sballo dei figli in discoteca. La lettera dopo la tragica morte di Nico Appositano. Un padre racconta l'attesa e l'impotenza dei genitori attaccati al telefono. E dal mattino passiamo adesso all'altro quotidiano romano Il Tempo che parla di vicende locali. Inchiesta, acqua e mala politica regionale divorano le spiagge. Devastazioni per decine di milioni. In serio pericolo il business estivo. Un mare di danni scrive quindi in apertura Il Tempo. Poi, sempre sulla prima pagina del quotidiano romano, si torna a parlare di Dell'Utri. Dell'Utri denuncia a sei giudici per il cancro esposto dell'ex senatore gravemente malato. Ora il CSM valuti il loro comportamento superficiale, scrive Il Tempo. Andiamo invece a vedere come apre questa mattina la verità. Il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, il piano di Renzi per risorgere, fregando i voti a Forza Italia. Questo è il titolo di apertura. Si parla di una riunione a porte chiuse. Il bullo ai suoi si fa riferimento a Renzi. Me ne frego del governo, lavoro per il 2019. Il progetto, mollare il Partito Socialista Europeo, scardinare il PD ed entrare nel Partito Popolare Europeo o in Anmarche. Ritentando, scrive la verità, l'OPA sui moderati. Poi, sempre il quotidiano di Belpietro, sulle vicende francesi. Macron blocca i disabili diretti all'URD. Causa sciopero, via libera solo all'alta velocità. Il treno dei Pellegrini non passa. Deportati sui bus, scrive la verità. Andiamo sul secolo d'Italia. Chi sarà il premier? Si chiede il quotidiano della destra e fa il titolo sotto una foto che ritrae sia Di Maio che Salvini. Vediamo le altre notizie poi in primo piano. sul secolo, nessun governo senza forza Italia. Tajani fa la voce grossa. Sassaiola, Rom, antipolizia. Meloni e Salvini dicono basta. E in chiusura della rassegna stampa andiamo sulla Gazzetta dello Sport per le notizie sportive. Prima pagina dedicata al capolavoro compiuto da Cristiano Ronaldo nella partita contro la Juventus di ieri sera. CR Wow, scrive la Gazzetta dello Sport. Quarti di Champions, Juve battuta 3-0 dal Real e da un marziano. Marziano, standing ovation per Ronaldo che con una rovesciata pazzesca ribalta la signora. Lui si inchina e ringrazia lo stadium. Troppi errori bianconeri, scrive la Gazzetta. Espulso di Bala. Montella superato 2-1 dal Bayern. E col capolavoro di Ronaldo e le notizie sportive si conclude la nostra rassegna stampa. L'appuntamento è alle ore 14 con il nostro telegiornale. A voi tutti l'augurio di una buona giornata.